Gli elogi sono stati tanti e sinceramente ringrazio il Presidente Alessio Giavarini e l'amministratore delegato Peppino Tiri per questa occasione, opportunità che mi stanno dando e soprattutto per la fiducia che stanno avendo in un tecnico che tra virgolette non conoscono perché non è facile avere fiducia di legro taglie alla prima esperienza da allenatore professionistico. Io credo che alla base di ogni successo e di gruppo di lavoro ci sia la fiducia iniziale perché magari potevano anche prendere l'allenatore più forte della Lega Pro ma che poi non c'era un connubio, un'integrazione e magari i risultati non arrivavano. Quindi io credo molto nel principio e questo è il primo principio che mi ha convinto a prendere e a fare questa sfida perché per me è una sfida affascinante, difficile con tanti problemi ma sarà affascinante perché nelle difficoltà le persone si uniscono, diventano più forti insieme e più forti si raggiungono gli obiettivi. Ed è quello che io intendo fare con la società e con il mio gruppo di lavoro che sarà il mio staff e poi con i giocatori insieme anche alla città, ai tifosi. Io sono uno che è da anni che cerca di lanciare dei messaggi in questo sport, magari qualcuno ha fatto fin di non sentirli negli anni ma siamo arrivati al punto come vedete che nel calcio non si sta capendo più niente. E tutte le cose che a volte qualcuno ha anche detto e lanciato dei messaggi anche in televisione venivano prese come quello è uno spiegato, quello che cosa sta dicendo, ma lascia stare, ma quello è così, quello è colà. Ma è la verità che oggi invece lo sport come la vita ha bisogno di valori per poter andare avanti, per poter avere felicità e serenità. Io credo che lo sport sia un laboratorio di valori e se noi lavoriamo su questo, come io intendo fare, dando una visione sia ai miei giocatori che al mio staff, io credo che possiamo fare un'annata molto molto divertente. Dove l'idea che abbiamo avuto col Presidente, che spero tutta la città sia d'accordo in questo, è quella di vedere i bimbi allo stadio, di vedere le famiglie, di una festa. Io ho sempre lottato contro gli pseudo tifosi allo stadio, quelli che non sono tifosi, ma ho sempre detto che i veri tifosi sono quelli che piangono con la squadra, che ridono con la squadra e che si compattono quando soprattutto le cose non vanno bene. Quindi questo è quello che cercherò di dare io a questa città, un'esperienza di vita, come ho detto in altre interviste, io posso dare quello che ho, non posso dare quello che non ho. Vengo qua con veramente un profilo molto basso perché sono nella mia prima esperienza e sinceramente non voglio fare proclami perché non posso farli. E quindi quello che io prometto è l'eccellenza, darò l'eccellenza nel mio lavoro, cercherò di dare il massimo della mia professionalità e della mia esperienza. E sono convinto che se il gruppo di lavoro mi segue in questo otterremo dei risultati belli, belli e forse anche inimmaginabili in certi versi. Però c'è bisogno di tempo perché non si raggiunge mai niente nella vita se non c'è prima la base, un lavoro e poi c'è bisogno di pazienza. Quindi io chiedo alla città, ai tifosi di avere solo pazienza perché non pretendere tutto e subito ma nella vita io ho imparato che quando tu costruisci le cose dal basso e vai più in profondità e perdi un po' di tempo nello scavare sotto allora puoi costruire molto più in alto. E credo che questo sia un principio che dobbiamo attuare anche nel calcio. Quindi i principi che attuerò sono questi. E i principi di vita che anche se domani dovesse andare via io non devono morire. Spesso succede che qualcuno fa qualcosa poi va via e tutto crolla. No, io intendo impiantare dei principi che anche se domani dovesse andare via questo modello di vita e di principi deve continuare e deve produrre frutto alla lunga. Questa è la mia vita ed è quello che sono disposto a fare con molto entusiasmo. Non vedo l'ora di partire già lunedì perché voglio conoscere i giocatori, voglio conoscere il campo, vogliamo lavorare insieme e creare questo gruppo. Lo stiamo facendo, quindi piano piano qualcuno arriverà un po' anche dopo, chi è arrivato prima. Però il calcio è questo oggi, ci sono troppe difficoltà. Quindi intendiamo fare le cose in maniera molto pulata. Senza andare per forza a prendere dei giocatori che poi non si inseriscono in un contesto. L'altra cosa che ci tengo a dire è a ringraziare veramente tutti quanti per questa opportunità e anche a tutti coloro che hanno fatto il lavoro precedente. Perché il lavoro precedente è da elogiare perché ci ha portato qua. E quindi io credo che è questo il principio. Sempre dire grazie alle persone che prima ci hanno preceduto e che ci danno la possibilità di stare qua. Questo è fondamentale. Quindi grazie a tutti, grazie ai giocatori che l'anno scorso hanno vinto il campionato, grazie a coloro che rimarranno. Solo una cosa ci tengo a dire è che una casa divisa, una casa o un regno diviso non può mai tenere la casa in piedi. Quindi se una casa è divisa prima o poi crolla. Quindi per poter fare un grattacielo forte bisogna essere uniti. Quindi che dai calciatori, che dalla società, tutti quanti, dai tifosi, vi prego, siate uniti, siamo uniti, cerchiamo di essere uniti perché se siamo divisi qualcosa crolla. Ma se siamo tutti quanti, anche confrontandosi con idee diverse, la cosa bella è stare qui e condividere questo perché se no poi diventa difficile. Quindi anche i giocatori dirò, la prima cosa che dirò, chi sta qua deve sposare il progetto, deve amare questa maglia, deve amare questi principi. Chi non si sente bene, ma gli consiglio di trovare un'altra squadra, di non venire neanche perché perde solo del tempo a prendere la macchina, venire qua, ma chi viene qua deve venire con uno spirito felice, contento di poter lavorare con noi. Al di là, se gioca o non gioca, poi lì subentrano altre dinamiche nei calciatori, io sono stato vent'anni di spogliatoi, devono venire qua perché vogliono sposare un progetto, nuovo, un progetto di vita. Ecco, questo voglio dire, un progetto di vita. Poi, chi fa 15, chi fa 20, chi fa meglio, chi fa meno bene, ma se fa bene la squadra fanno bene tutti. Questo è il mio... Grazie, belle parole, belle parole, bello. L'amministratore delegato per il più notifico, per qualche novità. Per forza, per forza. Ti aspetta una novità. Tiro, portiere, di Artorio. Maro Artorio trova tutto un nome. No, 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 è tutto un po' il nome. Maro Artorio è tutto un po' il nome. Trovate un nome, annunciate un portiere. E poi i portiere di Tiro non li abbiamo. Non li abbiamo, però li stiamo preparando. Poi presenteremo la squadra quando arriveremo. Ma poi non è meglio... Di Tiro, faremo una conferenza con tutta la squadra, a completare. Sì, ma è chiaro che ora parliamo solo di quelli che hanno firmato. Sì, 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 certo. Dei vecchi? Parliamo solo di quelli che hanno già firmato. Diciamo, in generale, posto ora mi partirai per dire... Perché per sapere qualcosa in più, diciamo... Parliamo le convocazioni a momento. Parle prima sui giornali. Prima che arrivano i giocatori non mi sembra la cosa più alta. Certo, c'è chi diceva anche che non eravamo l'allenatore, che eravamo in ritardo, mentre non era così, l'avevamo già preso. Però, annunciamo quelli che firmano. Mi sembra la cosa più logica, no? Annunciare quelli che firmano. Non quelli che vorremmo prendere. Chi ha già firmato? Il portiere. Sta firmato, filmeranno tra oggi, domani e lunedì. Stanno arrivando. E' 81. Madonia lo sapevano già, l'avevano già da loro in televisione. Madonia ha firmato. Sì, sì, Madonia è ufficiale. Allora, domande per... Scusate, se procediamo con... No, no, è formalizzato. Solo perché non abbiamo depositato. Sì, è considerato uno che ha firmato anche lui. Domenico Vecchio... Però ci stiamo annunciando dopo il deposito. Domenico Vecchio, mi ringrazio oggi. Rinnovo il mio benvenuto al nuovo mister. In bocca al lupo, naturalmente. Io volevo chiedere, lei immagina un Acragas fondato sui giovani? Poi, tra l'altro, lei ha un'esperienza con il settore giovanile. Oppure con dei nomi più importanti, giocatori di esperienza? O un mix dei due e due? Ma io credo che il mix sia la soluzione migliore. Il giovane è fantastico immaginare di lavorare solo con i giovani. Ma il problema è che il giovane ha bisogno di tanto tempo. Quindi mettendoci delle persone di esperienza all'interno, io credo che il giovane possa maturare molto primo. Quindi credo che noi... E tenendo in considerazione che i primi due mesi giochiamo fuori. Stiamo strutturando una squadra... Speriamo, sono i primi due mesi. Mix è l'ideale. Poi si parla di... Cioè, parliamo di vecchi, di giovani. Io non guardo la carta di identità, sinceramente. Io posso... Ho trovato nella mia vita giovani di 20 anni, ma vecchi dentro. È come la mettiamo. Cioè, è come la mettiamo. Giovani di 18 anni, ma con una mentalità da antichi proprio. Invece ho trovato gente di 34, di 33 anni che hanno uno spirito dentro. Oh, mamma mia. Poi abbiamo l'esperienza del Barocco che ha fatto bellissimo... Voi avete un'esperienza. Una certa età, quindi... Avete visto? Il modulo di gioco come sarà? Io non parlo di moduli. Io... Beh, diciamo una base del... Ma io credo che il modello, più che altro che il modulo, è un modello tattico dove tu metti, inserisci dei giocatori in una certa posizione di campo. Ma poi noi lavoreremo sui principi, non sul modulo. È il principio che per me conta. Cioè, i principi del calcio, i fondamentali. Quindi, le classiche marcature, coperture, attacco dallo spazio, densità in una zona di campo. Quindi, credo che io lavorerò molto su quello. Devo cercare di far coordinare i giocatori nel miglior modo possibile. Poi, inizierò magari in base alle caratteristiche dei giocatori che avrò. Io, in questa settimana, cercherò di accelerare questa cosa qua, perché voglio capire esattamente che tipo, che caratteristiche di giocatori ho. Perché non mi nascondo che la verità non è neanche che conosco tutti i giocatori. Cioè, io dell'agricast dell'anno scorso mi sto informando adesso, ma io non conoscevo un giocatore, tranne Baiocco, che abbiamo giocato insieme. Ma gli altri non li conosco, quindi non vedo l'ora di conoscerli, perché magari qualcuno mi potrà anche sorprendere. E quindi non vedo l'ora di iniziare il ritiro questa settimana per poi capire qual è la sistemazione migliore per poter tirare fuori da ogni giocatore il meglio. Il mio compito da allenatore e da leader di questa squadra è cercare di tirare il meglio da ognuno di loro. Poi il meglio non significa 4-3-3, 4-4-2, perché in campo, se voi vedete, durante la partita si girano 4-5 moduli. Allora, se vogliamo entrare proprio nel patetico di questi moduli, di questi numeri, va bene, ci divertiamo pure, ci mancherebbe. Però io credo che noi dobbiamo guardare altri principi. Una squadra che corre più dell'altra, una squadra che pressa più dell'altra, una squadra che gestisce la palla in maniera migliore rispetto all'altra. Questi sono i principi su cui lavoreremo, ci vorrà del tempo. E spero che prima possibile possa venire fuori la mia creatura, nel senso quella che è la mia idea di calcio. Quindi questo è quello che cercherò di fare. La nostra l'arte, quanti giorni e quanti giorni vorrei? Noi credo che più di 22, 23, no, non ne vogliono, perché se dobbiamo puntare qui sui giovani, è giusto anche tenere d'occhio anche sotto qualche ragazzino della Beretti e quando magari ci può servire qualcuno lo andiamo a prendere di là. Quindi questo potrebbe essere già una linea che la società sta attuando. e credo che sia una linea giusta. Spazio in giovane. Come dov'è la prima parte del grifo? Come dov'è la prima parte del grifo? Noi faremo le prime due settimane a Torre del Grifo e poi vedremo, in base anche alla disponibilità delle strutture, perché il ritiro è fondamentale, soprattutto le prime quattro settimane, e noi abbiamo bisogno di lavorare bene. Quindi venire qua e bisogna capire dove ci fanno allenare, se abbiamo un campo qua, noi torniamo qua, per stare anche già vicino ai tifosi. Però è importante la struttura, quindi per questo credo che il Presidente si sta muovendo con il Comune per accelerare i lavori. E se non si accelerano, io avrei un'idea, poi magari, la lancio però, è una mia idea di vita, no? Perché siccome l'agregas è di tutti, io vi faccio sempre questa domanda, ogni volta che andavo in alcune società c'era sempre il problema del Comune, il problema erano sempre i politici, quindi se non arrivava qualcosa dal Comune le cose non andavano avanti, e tu vedevi gli stati che marciscono perché si tengono così. Allora io penso che quando c'è un popolo, il popolo può sopperire alle mancanze dei politici. E dico, se l'agregas è di tutti, ok? È di tutti l'agregas, quindi siamo una famiglia, e nella famiglia che cosa succede? Che ognuno dà qualcosa. Secondo me è un principio che funziona, perché è meraviglioso. Quindi l'invito che io farei al popolo, ai tifosi dell'agregas, se c'è qualcuno che vuole dare, come beneficenza. Quindi un volontariato. Volontariato significa che io che sono un costruttore edile, che magari so dipingere, dico, vado al Presidente, io voglio dare, io dipingo quella zona, perché è compito mio. C'è stato l'agregas, forse ho già un venditore volontario che ha giustato il tetto, la sicura. Ah, io dico che se c'è questo, se c'è questo spirito, se c'è questo spirito, io credo che potremmo accelerare. L'amore, è vero, è vero. C'è un amico che mette parte. Allora, altre domande, così ci spassiamo poi al... Volevo chiedere se al di là delle ufficializzazioni avete già in mente di mantenere almeno nei grandi dei giocatori dello scorso anno o avete in mente di rivoluzionare un po' tutto l'assetto del tetto dello scorso anno? No, abbiamo in mente di tenere giocatori della scorsa stagione di sicuro, di riconfermare quelli più avanti alla categoria. Ok, ci spostiamo allo strato. Allora, prima di spostarci, portatevi il peggio di rimettere la prima sciarpa al nostro primo allenatore. Benvenuto!